Partirà il 19 febbraio al Palabecci del porto turistico Marina di Pescara la vaccinazione anti-covid degli over 80 anni, dei diversamente abili, delle categorie fragili che hanno effettuato la prenotazione sulla piattaforma telematica della regione. Oggi in municipio è riunione tra il sindaco Carlo Masci, il direttore dell'unità operativa complessa delle cure territoriali della ASL Rossano Di Luzio e l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia per organizzare la task force sanitaria. Le somministrazioni inizieranno venerdì pomeriggio con le dosi vaccinali Pfizer e Moderna che sono in arrivo. Ieri mattina aziende sanitarie comuni hanno effettuato un sopralluogo nella struttura. L'assessore Seccia invita tutti coloro che dovranno sottoporsi a vaccinazione, sono oltre 5.000 gli over 80 anni, ad arrivare nell'ora indicata e non prima in modo da evitare assembramenti nel piazzale antistante il Palabecci. Voglio preliminarmente ringraziare tutte le associazioni di protezione civile che stanno veramente dando l'anima, il cuore, gestendo queste emergenze che vanno dallo screening, a quella che sarà la vaccinazione, a quella che sono le problematiche anche di questi giorni riguardo al freddo. Tutte queste attività sono coordinate attraverso il COC e il Centro Operativo Comunale, la cui protezione civile ha il compito di smistare le esigenze del territorio e coordinare le attività, come in questo caso, di raccordo tra gli enti che partecipano. Nel caso della vaccinazione ovviamente saranno il raccordo tramite il COC tra i prenotati, dare informazione a chi dovrà venire, magari trasportare anche i vaccini per le scorte che devono essere ovviamente just in time per poter essere somministrate, perché ricordiamo che c'è la criticità per alcuni vaccini anche del consumo entro determinate ore, altrimenti perdono di efficacia. Quindi un ruolo molto delicato, stiamo svolgendo come comune con tanto impegno per poter arrivare a una soluzione immediata, perché da questa soluzione dell'emergenza Covid ovviamente determinano anche le attività, oltre che quelle della vita in senso fisico, la vita delle attività economiche che sono sul nostro territorio e che vorremmo in tutti i modi preservare.